Cambiano le condizioni sanitarie e le regole e di conseguenza cambia anche l'orientamento dell'amministrazione comunale di Andrea rispetto al tema Luna Park. Da sabato 16 ottobre fino a fine novembre è autorizzato un parco per giostre e attrazioni varie nella tradizionale location di via Martiri di Belfiore. Il via libera due giorni fa con la determina dirigenziale che autorizza l'occupazione di spazio ai giostrai e in particolare agli aderenti dell'associazione Agis. Una boccata d'ossigeno per i giostrai e i proprietari di attrazioni viaggianti che come ci spiega l'assessore dell'attività produttiva Cesare Troia era stato già promesso alla categoria durante le riunioni tenute a Palazzo di Città in vista della festa di San Riccardo quando il Luna Park fu invece vietato dall'ente. In quel momento ad Andrea c'erano circa 300 positivi e si era alla vigilia dell'inizio delle scuole. Oggi, ci spiegano dall'ente comunale, le condizioni sono completamente diverse, i casi attualmente positivi sono ridotti a poche decine e le scuole hanno già ormai da tempo iniziato la propria attività. In più, dal 15 ottobre cambiano le regole per le attività all'aria aperta, così come da DPCM del governo. Insomma, un insieme di fattori che permetteranno nel prossimo mese di recuperare quanto non vissuto durante il periodo della festività di San Riccardo.